ciao raga eccovi di nuovo con un episodio del tg 1000 che un weekend senza tg o video a caso vabbè comunque raga oggi a parte al meteo abbiamo anche una bella sorpreso no che movi spoiler un attimo cosa dovrebbe esserci vi spiego comunque verso la fine non adesso che raga se avete presente sanremo e festival finito questo weekend sabato praticamente oggi vi mostro che canterà anzi scusate chi che ha cantato quattro giorni fa che ho un video registrato qua però comunque non ho fatto io la rec la pata uno su youtube non io però raga scusate se mi sto dilungando canteranno non vi dico ancora il nome però canteranno quattro artisti nel frattempo che ci sarà il meteo vediamo se scoprirete se vi verrà in mente chi canterà vi do un indizio cantano rock e però mostra amadeus vi dico solo questo vabbè raga non vi perdo in piacere e ci vediamo dopo amici tra i bimeteo bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di martedì che vedrà rapido allontanamento verso est della perturbazione transitata sull'italia nel corso di lunedì e la pressione atmosferica torna ad aumentare sull'europa centrale e anche sul nostro paese e così giornata tranquilla con ampie zone di sereno se controlliamo le precipitazioni previste da noi non troviamo neanche una macchiolina azzurra davvero situazione tranquilla e quindi martedì soleggiato da nord a sud senza neanche problema della nebbia dato che ci sarà anche poca umidità quindi bella giornata di sole in tutta italia temperature tra l'altro anche relativamente miti tranquillamente toccheremo i 15 gradi in molte zone del paese vi segnalo però ancora un po di vento quello sì vento dai quadranti settentrionali si attenuerà poi a fine giornata per tutti i dettagli comunque sulle vostre località scaricate l'app gratuita di trebi meteo pronti anche a casa sta per esplodere l'ariston di gioia di entusiasmo di energia vi do un po di dati vi leggo alcune cose nel 2021 hanno vinto il festival di sanremo l'aerovision song contest gli mtv europe awards candidati agli american music awards 4 miliardi e 300 milioni di stream ripeto 4 miliardi e 300 milioni di stream 6 dischi di diamante 133 dischi di platino 34 dischi d'oro che vuol dire quasi 40 milioni di copie vendute nel mondo 40 milioni di copie in appena 11 mesi sono arrivati i primi sia in america che in inghilterra e nelle classifiche di 60 paesi del mondo hanno stabilito un record mai accaduto ad un artista italiano di avere tre brani contemporaneamente nelle classifiche mondiale a novembre dello scorso anno i rolly stone li hanno invitati ad aprire il loro concerto quindi la specifiche di amici siamo pronti chiedo al pubblico in sala e al pubblico a casa veramente di applaudire con grandissima gioia e soddisfazione perché sono quattro ragazzi italiani con zitti e buoni a sanremo sono tornati i bambini buoni a sanremo sono tornati i bambini buoni a sanremo sono tornati a canale in realtà io con la stessa camminando scusami ma ci vedo tanto che posso fare in questo saluto anche se la strada è in solita questo lavoro mi sto alle rande buona sì signore e signore fuori ti attori mi conviene intorcare i tuoi pionini e vi conviene stare zitti o buoni qui la gente è strana tipo squacciatori troppe notti sta bui su fuori e molli prendo a cancio sti contoni Guardo in alto tipo scalatori Qui mi scusa, mamma, se so sempre fuori di mano Sono fuori di testa, ma mi racco da loro E tu sei fuori di testa, ma mi racco da loro Siamo fuori di testa, ma mi racchi da loro Siamo fuori di testa, ma mi racchi da loro No, yeah Siamo fuori di testa, ma mi racco da loro Siamo fuori di testa, ma mi racco da loro Siamo fuori di testa, ma mi racco da loro Oh! Sono fuori di testa, ma mi racco da loro Non sappi che cosa fa Ma io tu portami, non riesco a chiare Tu mi manda a fare Basta, la gente purtroppo parla Non sappi che cosa parla Tu portami, non riesco a galla Tu mi manda a fare Basta, la gente purtroppo parla Non sappi che cazzo parla Tu portami, non riesco a galla Perché qui mi manca l'aria Ma sono fuori di testa, ma mi racco da loro E tu sei fuori di testa, ma mi racco da loro Siamo fuori di testa, ma mi racchi da loro Siamo fuori di testa, ma mi racco da loro Oh! Siamo fuori di testa, ma mi racco da loro Ok, raga Ok, raga Vi ho fatto vedere Gesù I maneskin Raga I maneskin I maneskin Chi pensava che tornavano anche quest'anno Boh, il video stava continuando Ma per non farvi annoiare Non l'ho continuato Però Raga Ascrivete nei commenti Se Pensavate Se avete Vabbè Raga Non c'è che dire E raga Da Mille stendini È tutto E Ci vediamo In un prossimo Video Ah, scusate raga Se non c'è la musica di sottofondo Ma Ho Ho dovuto fare un'altra Un'altra scena Vabbè Non so manco perché non c'è Vabbè Non importa Vabbè Raga Ci vediamo In un prossimo Video Da TG1000 È tutto E Raga A Domani Ciao 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 Ciao